Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e in questo video vi farò vedere come fare i completi di Juggernaut, come fare i completi a scacchi, solamente quei completi, quindi andremo a vedere 3 completi a scacchi e andremo a vedere il completo da Juggernaut. Questi sono i completi, vi lascerò in descrizione del video come si fanno questi completi, tutte le varie numerazioni di ogni singolo pezzo, vi basterà seguire alla lettera tutto quanto scritto in descrizione del video e riuscirete a fare questi completi. Vedete la scheda, troverete altri glitch con altri completi, sia maschili che femminili e potrete anche trovare il glitch integrale, integrale significa che vi spiega esattamente tutto quello che io sto facendo in questo video, quello che vedete a video, in maniera e in maniera tale da poterlo fare, adesso come ho già detto qui non mi sono messo a farlo per intero perché altrimenti il glitch sarebbe durato un botto, insomma per presentare 3-4 completini non mi sembrava il caso. Un'altra cosa ragazzi, volevo sapere che ne pensate per quanto riguarda il nuovo formato video, quello che vedete in video, quello che passa, se vi piace, se vi da fastidio, se è carino da vedere, se non è carino. Insomma, fatemi sapere il vostro pensiero, perché comunque sapete che il mio canale è il vostro canale, basta che non mi fate incazzare, per me il canale mio è il vostro canale. Quindi, ecco qui i completi, il juggernaut, ecco qui il completo da scacchi, ci sono vari completi a scacchi, questo qui me lo vado a salvare perché mi interessava, è un completo che avevo fatto in un glitch precedente, quindi andate a vedere anche i video precedenti a questo. E niente ragazzi, che dire, mi raccomando, come ho già detto, fatemi sapere se vi piace il formato video e tutto quello che passa in video, e mi raccomando iscrivetevi al canale, come è scritto in sovraimpressione ragazzi, e lasciate un like e condividete i video, insomma no? Mi pare una cosa giusta, insomma, detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.